Non puoi spingere la macchina al massimo tutto il tempo, giusto? Esatto, devi essere gentile con la macchina. Tu la senti, quella poveretta che geme sotto il tuo sedere. Se tu vuoi spingere il pezzo di un macchinario fino al limite e pretendere che comunque tenga, devi imparare a capire in qualche modo dov'è quel limite, capisci? Guarda laggiù, laggiù. C'è il giro perfetto. Nessun errore. Ogni cambio di marcia, ogni curva. Tutto perfetto. Lo vedi? Credo di sì. Quasi nessuno ci riesce. La maggior parte non sa nemmeno che c'è, però c'è. È lì.